Hatshepsut fu una delle figure più notevoli e influenti dell'antico Egitto. Nata intorno al 1507 anno corrente, fu la quinta sovrana della diciottesima dinastia egizia e regnò dal 1478 anno corrente al 1458 anno corrente Hatshepsut è notabile per essere stata una delle poche donne a regnare, come faraone e per il suo regno prospero e pacifico. Giovinezza e ascesa al potere Hatshepsut era la figlia del faraone Tutmosei e della sua grande sposa reale, Amose. Dopo la morte del padre e del fratellastro Tutmose II, Hatshepsut divenne reggente per il giovane Tutmose III, che era ancora un bambino al momento della sua ascesa al trono o regno come faraone contrariamente alla tradizione. Hatshepsut assunse il titolo di faraone circa sette anni dopo essere diventata reggente. Durante il suo regno, si concentrò sul miglioramento dell'economia egiziana, avviando spedizioni commerciali, in particolare verso la terra di Pant, e promuovendo grandi progetti architettonici, come il suo famoso tempio funerario a Deirelbari rappresentazione e legittimazione Hatshepsut si fece, rappresentare nelle statue e nei rilievi con i simboli regali maschili, come la barba posticcia e il copricapo Kat. Questo era un modo per legittimare il suo regno in un'epoca in cui il potere femminile era raro. Inoltre, creò un mito di nascita divina che la legava direttamente al dio Amon, rafforzando ulteriormente la sua posizione come faraone realizzazioni architettoniche e il regno di Hatshepsut, noto per le sue imponenti realizzazioni architettoniche. Il tempio di Deirelbari, noto anche come Diesergeseru, è considerato uno dei capolavori architettonici dell'antico Egitto. Il tempio è stato progettato per riflettere la grandezza del suo regno e per servire come luogo di culto per Amon. Fine della regno e damnati o memorie dopo la morte di Hatshepsut, Tutmose III iniziò un processo di damnati o memorie, cancellando molti dei suoi monumenti e iscrizioni. Questo tentativo di cancellare la sua memoria dalla storia non ha tuttavia impedito a Hatshepsut di essere, ricordata come una delle più grandi sovrane dell'antico Egitto eredità. La figura di Hatshepsut è stata oggetto di riscoperta e rivalutazione nel corso del tempo. Oggi è celebrata come una sovrana capace e innovativa, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'antico Egitto. In conclusione, Hatshepsut rimane una delle figure più affascinanti e complesse dell'antico Egitto. Il suo regno ha segnato un periodo di prosperità e stabilità, e le sue realizzazioni continuano a essere studiate e ammirate per la loro audacia e bellezza. La sua storia è un esempio di come, anche in un mondo dominato dagli uomini, una donna determinata e intelligente possa scendere al potere e lasciare un'eredità duratura.